Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video per risolvere questo problema riguardo all'apertura di Valorant che non si avvia proprio a causa del Windows Defined Firewall oppure a causa di alcuni aggiornamenti che non riuscite a fare per risolvere questo problema ragazzi quindi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale ditevi alla campanella ragazzi di lasciare un like se volete supportare il canale fate pure se invece volete anche Photoshop 2023 c'ho una guida sul secondo canale io non dico più niente quindi c'è una guida per scaricare Photoshop 2023 completo eh già quindi per risolvere questo problemino basta andare un attimo sulle impostazioni di Windows Defender protezione Firewall della rete basta andare qua sopra su questo scudo quindi protezione Firewall della rete consente app tramite Firewall se non avete questo servizio dov'è? se lo trovo eccolo qua se non avete questo servizio Riot Client questo qui modifica impostazioni se non avete proprio questo Riot qui dovete fare direttamente consente una trap sfoglia andare sul Riot che avete installato sul vostro sistema operativo quindi c'è il vostro disco ehm disco tutto questo qua programmi Riot Games, Riot Client, Riot Client Service fate apri aprite questa applicazione io non posso aprirla perché già ce l'ho in questo servizio quindi fate ok chiudete e mettete anche questi spuntini queste punte spuntate anche qua e fate ok una volta fatto andiamo a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento per aggiustare un po' Valorant quindi andiamo su Windows Update impostazioni di Windows Update verifica disponibilità di aggiornamenti io ho un aggiornamento da fare proprio per Microsoft Defender Antivirus si è aggiornato e vedete se si è aperto Valorant quindi ragazzi se avete altri problemi all'apertura di Valorant ci ho fatto più o meno 7 video su come avviarlo senza problemi riguardo anche al TPM riguardo al Security Boot su BIOS ma è un casino ci ho fatto tutorial su tutto su Valorant all'apertura, errore adesso anche su questo fatto di Windows Defender Firewall quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi come ho detto all'inizio se vi serve Photoshop c'è la guida sul secondo canale quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao